E' stata una fiaccolata molto partecipata, nonostante il tempo tantissima gente ha partecipato, tantissimi sindaci dell'area grecanica, c'erano diverse associazioni e c'era tantissima gente che ha voluto ricordare le tantissime vittime della strada. Con questo abbiamo voluto mandare un segnale forte a tutte le istituzioni, abbiamo fatto questa fiaccolata per dire basta alle tante vittime della strada, basta ai tanti fiori sull'asfalto e codiamo precedenza alla vita. Allora ringrazio veramente di vero cuore tutti coloro che hanno partecipato, ecco non faccio nome perché rischio di dimenticare qualcuno, però ringrazio i sindaci, le istituzioni, tutto coloro che hanno partecipato e che veramente hanno partecipato con il cuore. La stessa fiaccolata che abbiamo fatto sulla strada l'abbiamo fatta in maniera silenziosa, proprio per dare un segnale forte all'istituzione e per dare coraggio a tutte le mamme che hanno perso i loro figli proprio sulla strada. E' stato distribuito un santino, possiamo chiamarlo così? E' stato distribuito, San Cristoforo è questo, qui c'è un decalego di chi si mette in viaggio, ecco veramente un decalego forte, ecco mi auguro che tutti coloro che hanno ricevuto questo segno ecco lo mettono in pratica, perché la strada come regge da questo decalego, leggo soltanto il primo, come la vita deve essere uno strumento di unione e non di morte, ecco questo sintetizza tutto. Ecco mi auguro che per tutti chi si mette sulla strada stia attento a quello che fa, soprattutto quando guida. Grazie a tutti, grazie a Studio 95, grazie a saltolavecchia.com e grazie a tutti per aver partecipato a questo momento forte di riflessione e di preghiera.